Da oggi, tra l'altro, chiunque rientri in Italia deve mettersi in isolamento, in autocuarentena. Ci spiega esattamente in che cosa consiste, cosa si deve fare? Si tratta di una quarantena fiduciaria, cioè del fatto che, considerando una diffusione ormai piuttosto ampia e comincia a essere anche incontrollata negli altri stati, anche in Europa, ma non solo, noi siamo 40 giorni in ritardo rispetto alla Cina, ma le altre nazioni ci seguono a ruota a distanza di 8, 10, 12 giorni. Quindi sicuramente l'idea è quella di evitare che qualche altra persona possa rinfocolare il focolaio ormai già abbastanza disperso e quindi si tratta di chiedere a queste persone, verranno segnalate, e quindi dovranno, diciamo, questa quarantena fiduciaria documentarla attraverso telefonate che la struttura del territorio dell'ASL dovrà fare per 14 giorni, in modo tale che, appunto, non ci sia questo rischio di ulteriore inserimento di casi. È un fatto, a mio avviso, necessario proprio nell'ottica di un restringimento di quella che può essere la possibilità di avere contatti. Io ritengo che sia fondamentale questo, sia fondamentale anche rilanciare quello che è il rischio più grosso, oltre la vicinanza anche le mani, le mani che sono un veicolo di possibile trasmissione e quindi, senz'altro, distanziamento sociale, igiene personale, con buon senso, senza pensare a delle fake news che stanno susseguendosi. Ed è incredibile anche questo riguardo a farmaci contro la pressione alta che possono far male, ma non c'è nessuna dimostrazione, di antifebbrili che risulterebbe non siano opportuni perché peggiorano le cose, piuttosto che il virus rimanga nell'ambiente, sull'asfalto o sulla suola delle scarpe. Sono assurde fake news che aumentano il panico e rendono più difficile da parte del cittadino l'adesione a quelle che sono invece norme di assoluto buon senso, anche se stringenti rispetto al fatto di dover stare in casa sostanzialmente.